I suoi sentimenti in questo momento sono ego riferiti, cioè questa persona in realtà non ha una prospettiva o quantomeno se cerca di mettere a fuoco degli eventi futuri poi alla fine ciò che mette a fuoco è molto vicino proprio a se stesso, se stessa. D'altronde probabilmente non ha mai costruito in maniera solida e seria neanche nel passato, però per lui va benissimo così, cioè questa non è una persona che sta soffrendo, no assolutamente, perché a livello profondo lui sente di essere costantemente libero di ricominciare e di non avere legami o comunque doveri. Ecco, non ho il dovere di dimostrare nulla a nessuno, se si dovesse presentare l'occasione di un nuovo amore io libero posso andare verso quest'amore. Però d'altronde non si è.